In occasione della 25esima giornata mondiale dell'acqua, quest'anno dedicata al riuso delle acque reflue depurate in agricoltura, era presente anche l'assessore regionale alle risorse idriche Giannini ad un incontro organizzato per l'occasione a Noci. In questa occasione l'assessore dice che la Regione Puglia è pronta ad investire per risparmiare e non sprecare un bene prezioso come l'acqua. Sentite. Assessore, dall'uso al riuso dell'acqua la Regione ci crede e investe? Assolutamente sì, diciamo che è una strada obbligata, la risorsa idrica in Puglia è scarsa, è preziosissima e quindi noi dobbiamo fare tutto il possibile per risparmiare l'acqua. Oltretutto un'operazione di questo tipo comporta anche delle ricadute positive dal punto di vista ambientale perché consente la ricarica della falda e l'arresto di processi di saliniziazione e desertificazione. Peraltro anche vantaggi di natura economica e quindi è un'azione di supporto al settore dell'agricoltura perché con il riutilizzo dei reflui per finir rigui in agricoltura si conseguono notevoli risparmi e si migliora la qualità e la quantità della produzione vista la ricchezza di azoto e fosforo nei reflui affinati. Preme dire che naturalmente l'affinamento verrà esteso all'intera Regione ai livelli massimi previsti dal DM 185 del 2003. Questo significa appunto che non è soltanto concentrata in una zona della Regione ma tutta la Regione sarà interessata a scaglione ovviamente da questo processo che significa anche un investimento consistente dal punto di vista economico da parte della Regione. Ebbè assolutamente sì, stiamo utilizzando le risorse europee ma una parte delle risorse necessarie per l'affinamento sarà attinto dalla tariffa. È un discorso anche di civiltà, è un discorso che le nostre generazioni debbono nei confronti delle generazioni future, è un ragionamento che si estende a tutta una serie di possibilità e di opportunità. Non solo l'irrigazione in agricoltura ma anche usi civili che sono lavaggio delle strade e innaffiamento delle aree verdi urbane, raffreddamento degli impianti industriali ma anche produzione di foraggio ma anche altri usi sui quali la Regione investe nella sperimentazione.